Io credo che il successo inizi nel momento stesso in cui tu cominci a lavorare per i tuoi obiettivi. Le azioni che già prendi per realizzare i tuoi sogni ad arrivare ai tuoi desideri personali fanno già il tuo successo oggi e non tanto il fine dei risultati che otterrai domani. Mentre il successo risiede nelle tue azioni, esso è anche nel modo in cui tu decidi di agire. Così decidi cosa ha importanza per te, per poi perseguirlo con virtù, umiltà, integrità, dedizione, costanza e disciplina. Cosa più importante è volendo bene alle persone. Da parte mia io tratto sempre gli altri con il massimo rispetto. Non ha importanza quale sia la provenienza di una persona, quale sia il suo lavoro, dove abita, che automobile guidi, quanto guadagna e quale educazione abbia, non è questo. Questo non è ciò che definisce una persona, è il suo essere che lo fa. Sempre da parte mia io avvicino chiunque incontri con l'atteggiamento di saperli già dei vincenti e che possano fare un'immane differenza in questo mondo, credendo nelle qualità uniche di qualcun altro e incoraggiandolo a raggiungere la sua personale eccellenza. Lo aiuto anche ad iniziare il suo viaggio personale verso il successo. Quindi non credo che si possa mai essere soddisfatti del proprio successo personale, a meno che non si insegni ad altri come anche loro possano raggiungerlo, insegnando il dono dell'azione. Ok? Solamente con il dono dell'azione vuol dire insegnare realmente a qualcun altro raggiungere i propri sogni e trasformarli in realtà. Quindi non importa quanto sia dura la sfida davanti a te, persevera, vai avanti, con costanza, disciplina e dedizione, qualunque sia la tempesta davanti a te. Se farai così, solo così, capirai interamente il significato del successo. Ragazzi, iscrivetevi nel mio canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina se vi piace, rimanete attivi con i miei video e bocca al lupo, perseverate qualsiasi sia il vostro obiettivo, solo così avrete successo e buon fine settimana.